Buongiorno, io sono GobbiDecelera3 e oggi siamo su Gausshancels, il primo attore il primo è l'azione più difficile del gioco yeah oh attenzione attenzione oh che mamma mia non è possibile quello che ti dovrebbe succedere è te ok e vabbè io non ho giocato a Sonic perché Sonic è Sonic the Hedgehog ok quindi c'era un malfunzionamento com'è questo oh mio dio oh mo ferma vabbè non c'era la piattaforma l'ho fatta passare ah non mi aspettavo che fosse nemico dove l'ho preso i ring? vabbè non importa non so cosa voleva sapere questo quel ciao affanculo ecco non è possibile se c'è 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 ok adesso non so dove andare ok adesso perfetto wiii non è possibile non è possibile ma troppo attenzione è arrivata un'ape molto brutta oh ho finito il checkpoint ah aspetta mamma mia maiii maiii c'è una vita porca miseria oh oh ah sapevo le segne erano le segne di Green Hill vabbè mi ha fatto il bacio per sbaglio teis ci ha dato ok era solamente quello oppla attenzione qua mucchio selvaggio di ah di teis che cazzo fa ma mamma mia tesi di merda oh mio dio oh 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 ok ma oh no oh 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 vabbè io ci vedo la sua prima la sua prima ci sto pochè per riuscire aspettiamo sto sto coso del 5 ring nemmeno questo nemico e non abbiamo ancora finito livello oddio ok se non sbaglio sono per finire nessun ciao porca miseria sonic adesso ok vedo appunto abbiamo finito ce lo fa minchia ho citato oh mio dio l'abbiamo ancora finito quanto dura oh un ciao finalmente oh oh tess è morto nel frattempo vabbè che se ne frega adesso sti che se ne sono tornato indietro sono tornato indietro ok tess ne ha fatta boccate i bug di tess sono troppo epici la attenzione ma fa culo te sei sopravvissuto io scusate non mi avete sconto che stavo andando troppo avanti non mi avete persi quasi niente abbiamo finito? siiii finalmente ci vediamo al prossimo orto questi qua compri il vite e dai se perché vai troppo avanti no ma che cazzo qui ci sono una salita frutta sotto cosa andiamo da un'altra parte è lunga attenzione qua la vedo molto male sta massima sto atto ecco lo vedo molto male oh spero siii ce l'ho fatta ho citato quasi tutto il livello va bene va bene va bene basta che io sia salvo e lo sono no no le piole ma fa chi cazzo ma fa chi cazzo oh non mi ha preso quell'ape quanti ampi ci sono si ce l'ho fatta ho preso l'ascensore oh porca miseria sono rimasto solo con un ring attenzione numeri sezionali ci sono fatta solamente prendere due ah sono tre minchia aspetta minchia attenzione minchia culo a proprio l'unico no sono fuori parte fuori che è quella più difficile perchè se cadi è finita vai avanti ah ah vedo mi riprendi una seconda volta opla eh appunto è troppo rischioso la fanculo sta vape oh attenzione è quello prima che devo andare di la cosa ci stiamo avvicinando alla fine non mi ricordo se non mi ricordo se ho visto il checkpoint quella attenzione è adesso posso dire di aver visto il checkpoint ancora così adesso posso dire di aver visto il checkpoint 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 ho preso ok meno male che c'era porca miseria devo uscire a prenderlo oh attenzione qua è appunto sospettavo di qualcosa oh oh andiamo avanti oh no adesso cadono piattaforme dai mamma mia cosa dura attenzione niente ok e finisce qua prossimo sarà il livello sarà l'ultima puntata credo perché poi farò il video in cui farò l'ultimo l'ultimo come cavolo si chiama la parte extra nonno in cui dovrò raccogliere tutti gli smerati del caos però prima i ciao e sconfiggere come arco gli smerati alla prossima ciao ciao